ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video siamo qui su Battles Aces Beta grazie a tutti amici e vediamo un po' questo addestramento Ok 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 Usa il comandante di attacca per l'initiare un attacca. Cosa? Ah, così è proprio il problema. Cioè, va bene. Tu puoi far spawn a così tante unità? Spettacolare! Cioè, puoi farlo letteralmente in panico, puoi farlo in acqua lungo. Cioè, praticamente, c'è abbastanza... Sono dati e tutto, puoi farlo, rendi il panico. Sono veramente compito. Molto affascinato. Molto bene. Molto bene. Vittoria! Abbiamo la massacra per secondi! Ok. Ok, qua ci spiega i counter. È un gioco a scacchi, praticamente. Ok. Quindi. Quindi. Vabbè, di nuovo? No, sembra diverso. Ok. Ok. Questi qua adesso mi distruggono. E quindi... Io devo creare... Queste qua. Ci spiegano i counter, praticamente. Anche se ovviamente sono forti. Cioè, nel senso. Ok. Ok. Il viaggio. Is this the right way? Full tension Full tension Crash from home Blocking hubs Rocks Rolling, rolling, rolling We are at use A crown of destruction Moving into mayor No, no, no That's too far Get us together All there Mi piace molto Veramente Poche volte rimango zitto Ma la musica mi piace Il tipo di gioco mi ricordo un po' Total Annihilation Questo tipo così Veramente interessante Il tuo deck di carte Facciamo una partita contro Un'intelligenza artificiale Vediamo un po' Come si muove Però devo dire Davvero carino Molto molto interessante Cosa Siume Descent Non Siume La Siume 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 Sì Oh, siamo pronti? Qual è tutto questo? Scuttere! 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 Ah, già è tempo! Ok Certo! No? No! Certo! 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 Uniti in combat! Certo! Certo! Ok Ok Prazz! Move We're supposed to attack! Uniti engage! You got it Units under attack Saws fueled up I think they crabs attack This brings us back Let's go Come here Let's go Come here Let's go This brought us back facciamo così facciamo sponare questi mentre voi andate qua ok vabbè dai perfetto e questo è l'ultimo perfetto va bene ragazzi per me il video può finire qua spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettendomi mi piace non ho parlato molto però devo dirvi che è un gioco che mi affascina molto mi conto da total navigation sono veramente compito ragazzi il video finisce qua ringrazio UncappedGames e Kiminer per avermi fatto provare questa cross beta mi piace parecchio mi sono divertito e noi ci vediamo sul prossimo video ciao ragazzi